Arti marziali. Il tecnico federale della Nazionale Italiana Giovanile di Kumite Marco Lentini ha preso parte al Kao Karate Training Camp che si è disputato negli ultimi giorni al Palazzetto dello Sport di Malacarne Ricermenate in provincia di Como. Il Seccense Lentini ha diretto tutte le sessioni di allenamento aperte a numerosi atleti plurimedagliati a livello nazionale ed internazionale. Tra questi erano presenti pure Irene Marturano di Ribera ed Emma Colletti di Calamonaci, entrambe tesserate per la Ippon Karate Lentini di Sciacca. Diverse le società protagoniste al camp provenienti da tutta Italia. All'iniziativa hanno preso parte pure i tecnici azzurri Puleo, Nanni e Genocchio con i loro atleti. Un bel momento di confronto e di aggiornamento tecnico in vista dei prossimi appuntamenti agonistici di carattere nazionale ed internazionale, sempre targati Filcam. E passiamo al podismo. Si è svolta ieri ad Aspra Bagheria la nona prova delle Grand Prix regionale di corsa su strada sulla distanza di 10 km. Cinque Seccense in gara, tutti della ASD Sciacca Running. Primo del gruppo a livello cronometrato Tony Puccio, giunto primo nella categoria SM45. A seguire Luana Russo, prima nella categoria SF40, poi Vito Bono, Stefania Bono ed Anna Nicolosi. Gara importante per consolidare l'attuale seconda posizione in classifica generale della squadra femminile. I presidenti dei due sodalizzi Sciacca Running e Polisportiva Gatocle, ossia rispettivamente Giuseppe Marciante e Pippo Sclafani, in qualità di presidenti di società affiliate, hanno invece partecipato all'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche federali, che si è tenuta al pala congressi di Fiuggi. Nel corso dei lavori è stato rieletto come presidente della FIDAL Stefano Mei, presidente oscente, e pertanto nuovamente incaricato sino al 2028. 1.300 circa in totale i delegati provenienti da tutta Italia, che hanno esercitato il proprio diritto di voto. Grazie a tutti.